Buonasera e benvenuto alla Night Session su Bitcoin con analisi evoluta. Se hai avuto il tempo di dare un'occhiata alla nona puntata di Money Moves in collaborazione con Swissquote, hai potuto vedere la centratura giornaliera su Bitcoin e quindi hai un'idea del perché si stia andando a salire in questo modo. Siamo peraltro arrivati a raggiungere un livello di eccesso volumetrico e inizio a farti vedere quanto nei giorni prima e dopo le tre streghe siano di una simpatia eccezionale i mercati e gli HFT. Perché? Perché da qui, come ti raccontavo, può essere iniziato un nuovo ciclo, a questo punto settimanale, giusto? Perché? Perché stiamo rimanendo per più di 48 barre sopra questo minimo e perché stiamo provando a tornare su questo massimo e a vincolare tutto un settimanale inverso a continuare a salire. Di nuovo, cosa ti dicevo ieri? Che è meglio essere pazienti in questi giorni perché? Perché continuano a rimanere in lateralità tra questi minimi e vedi che stanno continuando a... che questo livello di supporto sta continuando a lavorare bene nonostante alcune spike, i 62751 e perché stiamo cercando di continuamente di andare sopra il massimo di questo ciclo che può farci da 7, 8, 9, T-3 e poi partenza di settimanale inverso. Il discorso è che qui non ci hanno dato la possibilità di avere una maggior visibilità con gli swing, con la violazione degli swing e nonostante la maggior visibilità ti faccio notare quanto operare anche nei giorni successivi alle tre streghe che sia non piacevole, mettiamola così, ok? Allora, qui iniziamo ad aggiornare e mettere potenzialmente partenza di terzo ciclo settimanale per il tempo, per gli swing, quindi abbiamo tutto, ok? Successivamente abbiamo avuto una roba che vediamo sulle cripto ma ho dovuto anche andare a ricontrollare. Allora, dato che da questo minimo a questo minimo andiamo oltre la durata delle 44 barre di un ciclo giornaliero, dobbiamo capire che caspiterina è sta roba qua. A parte il fatto che sono andato sugli exchange più conosciuti, Coinbase, Binance, Kraken, Bitfinex, no è questo qua, ok? Piuttosto che gli altri, ok? E sono andato a controllare su quanti c'era stata questa violazione. solo che su questa violazione io continuavo a vedere che il Tecnica 2 non voleva darmi uno short e quindi che cosa ho fatto? Non ho dato short anche perché stavo, ero pronto praticamente a fare la trasmissione con Ben Pei Paribas, ok? E quindi non avevo il tempo per dire, ok, se non mi lascio short, non mi metto short e meno male perché senza il Tecnica 2 ci si fa estremamente male e si scopre tardi che un ciclo ha fatto una forma estremamente bizzarra non tanto per le cripto ma comunque in generale una schifezza, perdonami il termine poco tecnico, di questo tipo ossia si è vincolato ribasso, successivamente ha superato il massimo precedente facendoci pensare a un raccordo o qualche cosa e successivamente dopo aver superato il massimo precedente che non dovrebbe essere una delle possibilità quando ci si vincola ribasso bisognerebbe rimanere sotto questo livello poi ha confermato di essersi chiuso appunto qua quindi, finta ribasso, mettiamoci short e si va su stop loss perché magari è posizionato poco sopra questi massimi successivamente ritorna sui minimi, meraviglioso successivamente se pensavi ancora che il ciclo si fosse chiuso qui come si poteva serenamente pensare, ok? 37 barre, partenze di nuovo ciclo che si vincola ribasso perché qui sulla maggior parte degli exchange siamo andati a ribasso in 17esima barra non arriva il tecnica 2, non andiamo short e non ci facciamo malissimo però chi non utilizza l'analisi evoluta si prende dei rischi estremamente ampi sì, mi rendo conto, non è il massimo non avere la possibilità di fare trading per un po' di giorni però però la prudenza paga e non porta in stop loss soprattutto e poi permette di fare ragionamenti come quelli che faccio serenamente per cui da qui abbiamo terzo ciclo giornaliero con peraltro massimi che prima sembravano decrescenti e poi si sono fatti crescenti qui non abbiamo violato il massimo per poco ma siamo già in eccesso volumetrico bisogna vedere se lo mantengono e se si va verso la parte alta del canale rialzista quello che ti avevo fatto vedere parzialmente una parte del tecnica 4 appunto disegna e a questo punto che cosa succede? succede che l'indice a questo punto l'abbiamo capito primo t-3 regolare roba assurda ok anche perché qui tra l'altro ci siamo andati a vincolare sulla maggior parte degli exchange a 17 barre non è un raccordo possibile tra un t-3 e un t-3 e un t-4 può esserci soltanto tra dei t-1 cioè dei cicli a tot a 4 giorni a 3 giorni non ne vedo a partire da questo minimo di cicli a 3 giorni vedo un t-3 un ciclo giornaliero e basta ok quindi finta di ridiscesa adesso salita adesso questo per quanto riguarda lato indice adesso parliamo tra un secondo anche del lato immerso ok parliamo tra un secondo perché perché ti ricordo che trovi questa analisi con tutti gli avvisi appunto di dove sarà ospite o conduttore nelle trasmissioni di trading e di investimenti come appunto Money Moves di Swiss Quote piuttosto che su House of Trading di BNP Paribas dove puoi vedere appunto Asset Line piuttosto che trading dal vivo con trade fatti apposta per piuttosto che avere delle notizie che magari possono essere interessanti come un discorso appunto di riserve e oltre a questo canale appunto su Facebook nato da da poco trovi sempre il canale Telegram eccolo qua con a cui puoi iscriverti tranquillamente ricercando Evoluta Jacopo Marini Trading ok questi sono altri due canali ufficiali c'è poi quello su Twitter il resto attenzione perché non sono io fortunatamente sono riuscito a debellare la maggior parte della gente che mi copiava e quindi sono già sono già avanti fortunatamente come cosa qui come di consueto su analisi Evoluta.com e tutte le informazioni per il metodo ma ritorniamo a noi indice fatto adesso parliamo di inverso ok lato inverso a che punto siamo arrivati prendo da questo massimo vado a vedere qui e trovo 39 barre anche qui comodissimo quindi possiamo essere vincolati a continuare a salire perché se qui abbiamo chiuso su questo top il primo ciclo giornaliero inverso o quello che sarà perché senza swing facciamo fatica ok avremo che cosa avremo un vincolo in quindicesima barra che ci può portare a trovare un top assoluto fino alla ventiquattresima come minimo quindi fino a minimo alle 4 e un quarto se non a salire solo che adesso siamo andati a farci un eccesso volumetrico quindi grazie proprio al tecnica 2 io che cosa faccio che non farei solitamente con la vecchia analisi ciclica mi prendo da un massimo mi trovo un altro bel massimo in questo caso qui arriviamo a 23 barre quindi possibile qui arriviamo a 26 barre e dico ok vediamo se fatto un primo ciclo che può essersi chiuso qui o qui partendo anche da qui abbiamo una chiusura di ciclo inverso fatta di soppiatto fortunatamente nel gruppo premium qualcuno l'ha notata ecco perché quando ho visto che il tecnica 2 iniziava ad arrivare su livelli volumetrici importanti di eccesso ho detto vediamo un attimino prima di considerare questo vincolo anche perché si aspetta sempre un attimo per la conferma del vincolo qui siamo arrivati a 28 barre di inverso secondo ciclo giornadiero inverso comunque giornadiero inverso fate finito che si è vincolato con questa barra che successivamente è andato a salire poi discesa per partenza della seconda parte del ciclo giornadiero inverso e poi risalita quindi chiusura e adesso discesa ok quindi in questo momento in cui continuo a dirti che magari è meglio fare attenzione a fare trading io ho questo dubbio e ho questo dubbio grazie appunto al tecnica 2 e non ad altri strumenti che sono propri della vecchia analisi ciclica di Hurst del migliorino oltretutto voglio ricordare che siamo sempre su un canale ascendente ok adesso sai che è da un po' che ti faccio vedere determinate cose interessanti e nuove e mancherebbe poco a ritornare su questi massimi bisogna vedere che cosa voglio fare da adesso in avanti per cui attenzione questo momento di lateralità può essere estremamente rischioso per chi anticipa magari determinati movimenti non è un gioco ok per questo motivo il mio suggerimento è visto vista la capienza ancora la durata che può raggiungere che può essere massima il mensile inverso bisogna fare estremamente attenzione e ti rimando ovviamente a quanto detto proprio durante la trasmissione appunto di Swissquote con la centratura giornaliera e a quanto oltretutto potrai vedere domani alle ore 18 in un webinar sempre con Swissquote in cui si parla di gestione del rischio nel trading con l'analisi ciclica evoluta gratuito come evento ma bisogna registrarsi quindi ti lascerò come di consueto il link per la registrazione mi raccomando attenzione perché i posti sono anche limitati per cui se vuoi vederlo meglio che tu faccia una scelta di vederlo o non vederlo molto rapida per evitare problematiche di sovraffollamento o di aspettativa ti faccio anche notare che il canale scendente quando toccato ci respinge e ci può portare appunto verso la parte alta anche in questo caso tentativo di rottura discesa secondo tentativo di rottura poi discesa verso la parte bassa risalita ma non forza per tornare su discesa quasi a toccare e poi rimbalza dopo il tocco per cui attenzione a non rischiare di andare contro trend di non anticipare le cose in ogni caso fino a che non avrò segnali più chiari a livello di qualcosa di più di un ciclo giornaliero inverso farò estremamente attenzione a muovermi perché se hanno fatto cicli di questo tipo un secondo ciclo giornaliero fatto che prima si vincola a ribasso quindi non dovrebbe superare i massimi dovrebbe continuare a scendere poi invece mi supera i massimi e solo dopo fa una spike di chiusura che ho dovuto controllare su tutti i maggiori exchange se era corretto che ci fosse anche su Bybit economia in IVA diventa complicato appunto ragionare senza gli strumenti che invece puoi scegliere sul mio canale direi che è tutto ti ho ricordato anche a che punto siamo del mensile d'inverso se non te lo ricordi hai appunto il video di Money Moves che te lo ricorda con la centratura aggiornata giornaliera mi raccomando finché rimaniamo in questo canale in questo canale di lateralità fai tanta attenzione ok tantissima attenzione altrimenti rischi di andare a prenderti degli stop loss che non ti aspettavi tipo quelli che ti ho descritto ok spero di avverti dato tutte le informazioni che possono esserti utili per fare trading su bitcoin nel caso metti un bel like indeciso al canale e ti auguro una splendida serata grazie a tutti i dati